energia. Ogni atleta sa quanto è importante gestirla. Troppa e sarai pesante. Poca e mangerai polvere. Sprecala e sarai fuori. La tua azienda è un organismo perfetto. L'efficienza è il suo equilibrio ideale. Repower, il tuo nuovo personal trainer dell'energia. Repower, l'energia che ti serve. Repower, organismo perfetto perché è una case history rara in cui agenzie e cliente hanno lo stesso obiettivo, cioè lavorare con passione e impegno per creare una campagna diversa e forte. Abbiamo accompagnato questo cliente in tv con il primo film realizzato per loro e siamo riusciti a mettere in campo un pool di talenti veramente globale. Abbiamo girato a San Francisco e scattato lì con Howard Schatz, quindi un grande maestro della fotografia, e abbiamo portato a casa una colonna sonora assolutamente insolita e fuori dagli schemi, con un talento invece italiano che se la gioca a livello mondiale che è The Bloody Beat Roots, quindi Sir Bob Cornelius Riffo, che ha composto per noi la colonna sonora del film. È una campagna speciale perché abbiamo lavorato fianco a fianco dalle riunioni qua in agenzia fino al lavoro sul set a San Francisco, veramente a stretto contatto e con tanta passione sia noi che il cliente che i talenti che abbiamo coinvolto. Una campagna molto importante perché è un punto bellissimo di arrivo di un lungo percorso che abbiamo fatto insieme, che è arrivato appunto quest'anno finalmente a una campagna davvero integrata con tv, stampa, radio e web e che proseguirà nel 2016 con un progetto ancora più interessante, ancora più stimolante, soprattutto digital e ancora più integrato sui diversi media.